Oggi ragazzi un episodio specialissimo, perché sì, andiamo a sfidare Groudon Shiny per sbloccare il nostro bellissimo Primal Groudon o Archeo Groudon che sta aspettando la sua evoluzione ragazzi, quindi benvenuti e benvenuti in questo nuovo video salutiamo subitissime campioncini di oggi che sono Dynchysward e Mattia che hanno commentato lo scorso episodio con l'hashtag Minecraftita decidendo quale secondo loro è più bello tra Groudon e Kaiogre però ragazzi, secondo voi, oggi vi chiederò appunto per essere salvati in un prossimo video quale è più bello tra Archeo Groudon o Archeo Kaiogre oppure Primal Groudon, Primal Kaiogre, ragazzi, chiamateli come diamine volete ma la cosa importante oggi è che noi partiamo subitissimo all'attacco e noi andiamo subito a sfidare quella dannatissima, quel dannissimo vulcano tutto quanto stranissimo con la nostra squadra oppata ragazzi, perché come notate abbiamo Rayquaza al 100 Necrozman all'81, Groudon al 100, Dragonite al 100, Charizard al 100, Eternatus al 100 ma in realtà ci manca Mewtwo, che non so dove diamine l'abbia messo eccolo qua, il nostro campioncinissimo Mewtwo quindi andiamo subito a curare i nostri Pokémon praticamente dovremmo avere tutte quante le nostre pozioni con noi vediamo se abbiamo tutto quanto l'Expole è attivo o è disattivo? ora l'abbiamo attivato, almeno siamo super belli che tranquilli e ragazzi in questo episodio qui noi non aspettiamo nient'altro andiamo subitissimo all'attacco a vedere se riusciremo a sconfiggere questo campioncino perché voglio comunque sbloccarlo questo Primal Groudon sono tanto curioso di vederlo all'interno della pixel ma non anche perché questo Groudon qui che abbiamo noi è anche in dimensioni molto grandi il che è una cosa super super rara e in più prima di andare nel vulcano ragazzi lì in fondo ho visto un bellissimo Flareon e tanti di voi sicuramente hanno visto l'episodio di ieri questo qua è il 50 dove nell'isola segreta dove abbiamo trovato la palestra di Kendal abbiamo scoperto che ci sono un sacco di Eevee e vi ho chiesto se ragazzi voi volevate fare un evento dove catturavamo tutte le versioni di Eevee che non è questo però già da ora magari potremmo partire da un bellissimo Flareon che magari se manca un trassi dentro le nostre bellissime Duskball che ricordiamo sono le ball più rotte della pixel perché mi hanno uscite le stelline dello Shiny? lo fa sempre quando catturiamo un Pokémon che escano le stelline proviamo a catturare questo Cacnea perché ho flashato delle stelline e degli Shiny che è da un po' che non vedevo vediamo? no non le ha fatte adesso ma ragazzi c'erano delle stelline dei Pokémon Shiny qua davanti boh sicuramente in video le avrete viste ragazzi quindi poi me lo dite voi comunque vi dicevo più avanti sicuramente andremo a catturare tutti quanti i Pokémon Shiny ah in più ci sono dimenticati di dare la Max Soap al nostro campioncino Charizard ma eccoci uh come notate ragazzi dopo che abbiamo portato Groudon al 100 il totem qua davanti dove spunevamo solitamente Groudon è diventato con la scritta Boss Leggendario a meno che il nostro bellissimo Groudon Shiny non sia più forte del 100 vabbè lo scopriremo assieme ragazzi ora partiamo questa battaglia uh ragazzi oh mio dio questo è Groudon Shadow partiamo subito col Groudon Shadow al 120 allora in realtà la mia squadra Pokémon non è che sia proprio pazzescamente incredibilmente forte contro questo Groudon perché comunque mamma mia ragazzi ci ha tolto tantissimo megavolviamo Charizard megavolviamolo perché almeno possiamo fare un po' più di danno ma la vedo una battaglia comunque bella tosta perché io pensavo che la mia squadra al 100 dei miei Pokémon fosse potente ma secondo me ragazzi non è pronta per i tipi appunto come Groudon Charizard è stato fatto fuori va bene però lui comunque è al 120 ragazzi allora con cosa andiamo? andiamo di Eternatus perché magari con Sludge Bomb possiamo fare più danno mi ha shottato Eternatus oh mio dio qua mi serve sicuramente un Pokémon tipo Acqua e secondo me Greninja ragazzi sarebbe veramente il top però vado di cosa? di Dragonite lo paralizziamo un attimino? non ce l'abbiamo fatta a paralizzarlo perché a noi ne frega niente essere paralizzato allora vado di Dragon Pulse l'abbiamo quasi fatto fuori lui ci ha lasciato metà vita e il primo Groudon lo abbiamo fatto fuori ragazzi ecco Groudon Shiny ecco perché era così importante per il professore perché ragazzi come notate è grande quanto tutto il vulcano è pazzesco ok allora Dragon Pulse non farci fuori perché mamma mia ragazzi togliamo pochissimo Hyper Beam no non ce l'abbiamo fatta va bene ragazzi allora proviamo ad andare di Rayquaza e proverei ad andare di oltraggio con Rayquaza perché comunque toglie molta vita oltraggio mamma mia però ragazzi io ci ho tolto un sacco oltraggio l'ha seccato l'abbiamo fatto fuori ragazzi e c'è l'ultima versione base del Groudon allora partisse un altro oltraggio sarebbe leggendaria come cosa ragazzi eh vai ok un terzo di vita gliel'abbiamo tolto ci rimangono solamente Groudon e Mewtwo ragazzi proviamoci proviamoci perché è molto importante allora abbiamo Fire Blast abbiamo Preside Blade Solar Beam potrebbe fare qualcosa controlliamo assieme Groudon al volo per vedere appunto gli effetti che hanno gli attacchi che abbiamo noi perché noi abbiamo una mossa di tipo Erba di tipo Fuoco di tipo Elettro ma noi ci diamo Erba è fortissima Solar Beam dai che ce la possiamo fare tecnicamente col prossimo attacco lo possiamo fare abbiamo vinto Groudon è stato eliminato abbiamo vinto la battaglia come torna ad allenarti abbiamo vinto 10.000 pochi dollar uh fermi un attimo non c'è più una scritta boss sopra e il mio Groudon ha nell'inventario fermi un attimo la Red Orb bellissimo quindi tecnicamente ora se noi dovessimo fare una battaglia per esempio con questo Gyu Ball mamma noi si deve trasformare in un bellissimo Primal Groudon che bomba ragazzi tanta 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 roba guardate che bello che è però lo testeremo in un prossimo episodio questo ragazzi perché sono molto curioso in più vorrei testare anche Kyogre ma ancora non abbiamo trovato né il suo spawner né ovviamente lo potremmo né abbiamo trovato anche lo spawner del Kyogre però modificato per ottenere la sua versione Primal o Archeo chiamatela come volete però che figata allora in tutto ciò io direi che diamo anche la Max Soap al nostro campioncino Charizard che secondo me sarà merita perché ha fatto una bellissima battaglia quindi andiamo subitissimo a curare tutti quanti i nostri Pokémon che hanno sostenuto appunto questo scontro mega apocalittico andiamo qua da Charizard e gli facciamo bere la sua super bellissima Max Potion quindi io quasi quasi testerei questo bellissimo Gigamax Charizard con in tutto l'isola di Fere perché volevo anche andare a vedere se nel Move Tutor o nel Move Rilinear potevo migliorare il Groudon che ho appena trasformato e poi in Arco Groudon o prima Groudon ragazzi chiamatelo voi come volete e vedere se puoi imparare magari qualche mossa speciale quindi andiamo subitissimo nell'isola di Fere non in Quagli Stefo perché Quagli Stefo ormai l'abbiamo già maxata e distrutta per bene quindi vediamo un attimino abbiamo un Mewtwo conne squadra lo abbiamo quindi vogliamo direttamente e cerchiamo di capire se è esponato qualche altro dungeon in più unica pecca ragazzi è ancora l'isola di Fere e secondo me per questo motivo che ancora non abbiamo sbloccato la sua palestra è che non abbiamo nessuna pietra per spawnare sia Landorus Tandorus e Tornadus e secondo me è questo il motivo quindi sto un pochino peccando su questa cosa e non riesco a trovare uno spawner o altro che mi possa dare questo oggetto per poter sbloccare la palestra di Fere perché voi siete un pochino indecisi e lo leggo nei commenti se sfidare la palestra di Marci o di Fere quindi un attimino ragazzi questa cosa qui lo scopriremo più avanti degli episodi però vi faccio un piccolo spoiler in qualche prossimo episodio forse nel prossimo potremmo sfidare la palestra del campionicino Marci che abbiamo visto assieme che era diventata di modalità legendary allora andiamo nel movrilinear e controlliamo le mosse del nostro amico Graud allora puoi imparare Fissure che non c'era un'altra volta Earthquake ragazzi è una mossa incredibile che io farei imparare al posto di Pris and Blades perché comunque toglie 120 e Terremoto toglie solo 100 però ha molta più precisione allora questa scelta qui ragazzi ve la faccio fare a voi nei commenti ma ci tengo veramente molto e vi faccio sapere un pochino questa vostra opinione perché per me è molto importante capire cosa fare con le mosse dei vari Pokémon perché magari voi ne sapete di più poi abbiamo Earth Power che toglie meno di Terremoto quindi inutile eruzione anche questa inutile abbiamo Hammer Arm che è una mossa di tipo lotta però è una mossa di tipo terra a noi ci serve come il pane ragazzi quindi non possiamo assolutamente togliere le nostre mosse poi vediamo invece di Charizard se possiamo fare imparare qualcosa in più allora Lancia Fiamme toglie assolutamente meno di Fair Blitz quindi o facciamo imparare una mossa che toglie più di 120 o non facciamo imparare niente al nostro Charizard di tipo fuoco quindi eliminiamo Lancia Fiamme e guardiamo cos'altro abbiamo appunto perché abbiamo Inferno ma ha 50 di precisione ed è pochissimo Dragon Claw toglie più di Dragon Pulse vediamo no toglie 5 di meno quindi non va affatto bene poi guardiamo se abbiamo Heat Wave no perché è 95 e beh ragazzi toglie solo 40 quindi assolutamente no allora anche il Charizard è a posto l'unica cosa che volevo controllare è il Move Tutor perché il Move Tutor ragazzi ha delle mosse super rare che non si possono trovare in natura ed è il primo e unico Move Tutor che per ora abbiamo trovato nell'Overwall questo qui ragazzi è una delle cose più rare che possono mai spawnare nella Pixelmon quindi guardiamo assieme allora possiamo far imparare Razor Wind che non mi piace toglie solamente 80 poi vediamo se abbiamo delle mosse belle corpose tipo Last Resort ragazzi Last Resort 240 ed è una mossa normale è molto interessante questo Last Resort però ci servono delle gemme due gemme che per ora non abbiamo molto interessante se avete un consiglio su dove o su chi far imparare questo Last Resort sarebbe top ragazzi farmi imparare allora vediamo un attimino qua perché abbiamo un Galvantura al 39 che ha una vita bassissima quindi no questo Pokemon qui non lo conosco ora proverei a testare questo Galvantula al 39 contro il mio Primal Groudon perché appunto voglio vedere quanto in realtà è potente perché il Pokemon abbiamo spawnato no spawnato no abbiamo sfidato nell'isola di Marci era super super scarso era tipo a livello 10 vediamo se il nostro Prime però non posso vederlo Pixelmon mi fai il favore per favore di non buggarti che voglio guardare tutti quanti i miei Pokemon per me guardate che bello che è ragazzi Primal Buddy vieni qua Buddy vieni a salutare quanto è bello questo Primal Groudon me lo regali Buddy lei chiede un po' troppo lei è il mio antagonista in questa serie allora vediamo questo Primal Groudon con Fire Blast ma l'ha shottato questo Fallingsk che è un nome che non ho mai visto nella Pixelmon ma comunque veramente 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 devastante ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video spero che questo qua vi sia piaciuto mi raccomando è molto importante scegliete uno dei video qua davanti e noi ragazzoli ci vediamo in un prossimo video della Pixelmon e anche in altri video di Minecraft sul mio canale ciao 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 ciao